musica 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 e ti vincere bene, mettiti in ginocchio quando la mano parte tu apri il sacchetto e prendi la mano musica Sì! ommeno un applauso a Gilda ma io attenzione voglio dire una cosa Gilda ero talmente sicuro mi va che tolgo lì troppo perché anche mi è veramente sicuro che poi mi è buscato che sapevo che il suo colore sarebbe stato più valore questo grazie un applauso a voi che siete stati a mio pubblico e io sono Magic Pilly con la Y chissà che un giorno non ci si ritrovi in giro grazie buon procedimento grazie